Amici videogiocatori, rieccoci tutti insieme qui nel fantastico mondo dei videogames con un appuntamento speciale dedicato a un Game of the Week molto particolare, coloratissimo, spericolato, veloce, un'esclusiva con i controfiocchi per Xbox One targata Rare. I creatori dei mitici avatar di Xbox, così come di una moltitudine di capolavori videoludici, tornano alla ribalta con Kinect Sports Rivals, un arcade multisport che disegna orizzonti nuovi, soprattutto in termini di precisione nella rilevazione dei movimenti grazie al nuovo Kinect di Xbox One. E calcio, tennis, scalata, moto d'acqua, bowling, tiro al bersaglio, insomma cena è davvero per tutti i gusti, un'esperienza ludica e motoria consigliata per il divertimento di tutta la famiglia. Kinect Sports Rivals è il nuovo arcade multisport di Xbox One, che continua la sua scalata nelle classifiche di vendita mondiali a suon di ottime esclusive. Dopo aver mancato il lancio dello scorso inverno, in parte colmato dal pacchetto Pre-Season, il nuovo titolo Rare si presenta come la degna prosecuzione della saga, sfruttando al massimo le funzionalità e la precisione di Kinect 2.0. I movimenti dei giocatori, anche i più piccoli, come quelli delle mani, vengono riconosciuti con perizia dalla periferica, senza leg o perdite di fluidità e precisione. Un lavoro strabiliante di lettura motoria, tutto appare perfettamente ricreato per offrire al giocatore la sensazione di esserci veramente. Ottimi i gameplay delle varie discipline, accessibili a tutti ma con la giusta curva di apprendimento, e la cornice tecnica sgargiante, provocatoria e ricca di effetti speciali, che si beano della risoluzione a 1080 pixel. Kinect Sports Rivals è dunque un titolo perfetto per il divertimento di tutta la famiglia, anche online. La cosa bella è che, oltre al perfetto tracciamento dei movimenti, il nuovo Kinect funziona alla grande, anche in condizioni di luce non ottimali, grazie alla nuova ottica. Vero, e inoltre non serve nemmeno tanto spazio per giocare, perché l'ampiezza visuale dell'ottica permette l'uso anche in ambienti decisamente più piccoli. Un passo avanti rispetto all'edizione precedente per Xbox 360. Assolutamente, anche perché non tutti possono giocare, per esempio, nel salotto di casa. Insomma, Kinect Sports Rivals si presenta alla grandissima all'appuntamento primaverile con i giocatori. Un'esclusiva per Xbox One, che vedrà anche continui tornei online e l'aggiunta probabilmente di nuove discipline, grazie a DLC aggiuntivi scaricabili. Insomma, un titolo per l'ammiraglia Microsoft assolutamente da non perdere. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS